Ok comincerei con salutare tutte, tutti e tutta asterisco e come dicevo nel panel precedente che si è appena concluso, dedicato ai movimenti lesbici, uso e probabilmente usiamo l'asterisco perché sono, siamo ideologhe gender come si dice da qualche anno a questa parte, ovvero pensiamo che i sessi non abbiano nulla di naturale ma siano costruzioni solidamente naturalizzate che servono una data di distribuzione di potere, potere per alcuni e non potere per altre, potere per alcuni e non potere per altri asterisco. Sono Sara Garbagnoli, sono ricercatrice indipendente associata al centro di ricerca di politesse dell'Università di Parigi 8, al centro politesse dell'Università di Verona, sono onoratissima e felicissima di animare questo panel a cui partecipano ricercatrici di cui ammiro profondamente il lavoro. Ringrazio sentitamente la Società Italiana delle Storiche per aver permesso questa occasione di scambio all'interno del congresso dedicato a storia di genere, percorsi, intrecci e prospettive, non è così frequente avere dei panel di storia lesbica nel diciamo nei congressi di scienze sociali oggi in Italia. E tra l'altro ad una splendida giornata di studio dedicata alla storia delle lesbiche, alla storia l'erbica organizzata dalla SIS una decina di anni fa, ho incontrato Maya De Leo e Carlo Tross che partecipano alla tavola rotonda di oggi, quindi è un modo per festeggiare insieme le nostre nozze di cotone, d'argento, di seta, insomma non so come si dica. E quell'occasione di incontro e di scambio intellettuale ha contato molto per me nella scelta di continuare a fare ricerca e a fare ricerca anche sulle lesbiche. Spero che valga lo stesso per molti, molti, molt'asterisco di noi anche oggi. Il nostro panel, lo sapete, si intitola le soggettività lesbiche tra storia e letteratura, rappresentazioni, norme e culture. Questo panel si propone di interrogare storicamente le rappresentazioni dei corpi e delle soggettività lesbiche in diversi testi letterari che, come sentirete, vanno dal primo novecento agli anni novanta del secolo scorso. L'obiettivo è quello di aprire uno spazio di discussione in un'ottica comparata tra discipline, in un'ottica internazionale, sulle modalità di rappresentazione delle soggettività lesbiche in una pluralità di discorsi culturali o scientifici e anche sulle modalità di autorappresentazione delle soggettività lesbiche e sul ruolo giocato dalle istituzioni, in particolare le istituzioni educative, nella fabbricazione della norma sessuale e eventualmente nella sua sovversione. Cominciamo con un intervento congiunto di Charlotte e di Silvia. Le presento entrambe e poi lascio a loro la parola. Ogni intervento dura, come sapete, circa 20-25 minuti per un totale di 50 minuti. Charlotte Ross è reader in studi di genere, sessualità e studi culturali presso l'Università di Birmingham. È autrice di diversi libri e articoli che analizzano e studiano le costruzioni socioculturali di genere, di sessualità e di identità minoritarie, tra cui Primo Levi's Narratives of Embodiment, Eccentricity and Sameness, Discourses on Lesbianism and Desire between Women in Italy, 1860-1930. Silvia Antosa è professoressa associata di letteratura inglese verso l'Università di Enna Core ed è direttrice del Centro Linguistico Interfacoltà Core Click. Ha pubblicato numerosi saggi ed articoli sulla narrativa e la scrittura di viaggio nell'Ottocento e sul romanzo britannico contemporaneo. Silvia Antosa ha curato diversi volumi interdisciplinari sulle teorie e pratiche queer. Silvia è membro del direttivo della Società Italiana di Anglistica e codirige la collana Anglosofia, studi di letteratura e cultura inglese. Silvia è anche membro del comitato editoriale della rivista Textus English Studies in Italy. Attualmente Silvia e Charlotte stanno lavorando a una ricerca comparata sulla rappresentazione del desiderio tra donne della letturatura inglese, francese e italiana all'inizio del novecento e diciamo la loro relazione penso sia già parte di questo progetto e ci vi lascio la parola per raccontarci meglio e per sentire le vostre analisi. Grazie a tutte. Grazie mille Sara, desideriamo ringraziare Sara Garbagnoli, diciamo motore primo di questo panel e di due panel insomma di questa mattinata così densa e vorremmo anche ringraziare la la SIS e l'Università di Verona insomma per aver ospitato così tante sessioni su questioni importanti di genere e sessualità. Abbiamo deciso di parlare in inglese quindi come vedete già dalla prima slide abbiamo in qualche modo pensato ad un intervento a due voci e in lingua inglese perché come insomma vi dirò fra poco il nostro paper, il nostro intervento fa parte proprio di un progetto finanziato dalla British Academy e dall'Università di Verona che chiaramente stiamo scrivendo in lingua inglese però ecco eh teniamo a dire insomma che il dibattito può serenamente essere in lingua italiana insomma una delle lingue appunto del del convegno. Quindi come dicevo questo paper è parte di un progetto comparato più ampio che esplora la rappresentazione culturale del desiderio tra giovani donne tra Italia, Gran Bretagna e Francia nei primi decenni del ventesimo secolo. L'argomento di cui parliamo oggi in particolare riguarda la rappresentazione del desiderio omerotico tra giovani donne in istituti educativi nei testi in alcuni testi letterali pubblicati in Francia e Gran Bretagna tra gli anni venti e gli anni trenta. Come vedete nella appunto nella slide che sta proiettando Charlotte abbiamo inserito anche il link appunto al blog della British Academy se siete più interessate insomma volete mangiare informazioni sul progetto eh nella appunto at large diremmo eh saremmo ben liete poi di interagire su questo. Quindi adesso lascio eh subito la parola Charlotte che eh introdurrà il nostro intervento e poi continueremo appunto alternando le nostre voci. Charlotte a te la parola. Thank you thank you Silvia. So we begin with the premise that representations of women who desired women in the late 19th and early 20th century in Europe were trans cultural that is they were forged across cultures languages and genres. Emerging sexological discourses were influential in shaping the new figure of the homosexual and were inspired in turn by literary representations of non normative identities. Sexology and fiction sometimes overlapped and were even reciprocally influential. For example, we might think of the Italian anthropologists Cesare Lombroso and Guillermo Ferreira citing novels by Denis Diderot and Teofil Gautier as though they were empirical studies which confirmed the incidence of homosexuality in society. We might recall Radcliffe Hall's The Well of Loneliness that engages closely with medical definitions of the so-called sexual pathologies including the theory of sexual inversion proposed by Kraft Ebing in his Psychopathia Sexualis in 1886. Crucially, scholars like Chiara Beccalossi and Anna-Katharina Schaffner have noted the ambiguities in sexual and sexological studies. They're not monolithic theories but discursive constructions that mobilise complex and shifting ideas. They often contain internal contradictions. Similarly novels about women who desired women were ambiguous both reflecting and influencing sexological writing. To date little research analyses the movement and evolution of these discourses on women desiring women across Europe. So with this in mind this paper and our broader project seek to open up a transcultural slant in critical reflection on European literary representations of women desiring queerly. Our period of focus is the early 20th century since this was a time when sexological discourses were circulating quite widely and had been for some time but also some more progressive representations of queer desires and identities were circulating in cultural texts. Our research builds on the crucial research done on individual contexts and brings some of these into dialogue with one another. We focus on two key issues. First we trace the ways which medical pathologisation and stigma surrounding homoerotic desire resonated in literature. Second we continue to expand ongoing debates about the idea of quote-unquote lesbian modernism. Now many different narratives have been put forward about what this might be including for example the idea that works exploring non-normative women's sexuality by writers such as Juna Barnes and Gertrude Stein made significant contributions to the aesthetics of the modernist project as a whole. Diana Suhami has even claimed quote there is no modernism without lesbians. It's a title of a recent book. There are also analyses which note the coexisting radical and more conservative tendencies of some sapphic modernists so it's not all about being on the vanguard. In contrast in this paper we take our lead from Heather Love's notion of backward modernism and we seek to unravel further both the idea of the lesbian and that of modernism across cultural contexts. Love's focus in this text is on the ambivalence that she sees at the heart of the modernist period. as some authors struggled against the desire and the impulse to look forward conceptually and aesthetically. Instead of being caught up driving this urge for newness they turned back. Queer figures, often social outsiders, frequently inhabited particular zones of marginality including this kind of temporal liminality where they're looking backwards rather than forward against the grain of the period. Love's aim is to explore modernism's others in order to complicate the dual positions of the stigmatized homosexual and the evolving modern homosexual subjectivity. Similarly the text we explore are not examples of high modernist art but rather understated genre fiction. They narrate not the empowering sapphic idealism of Nathalie Barney's coterie in Paris but isolated young women from rural backgrounds who experience queer desire in different ways and struggle to articulate it. Moreover unraveling the concept of lesbian the texts we explore depict bisexual or queer desire and incestuous longings. They cannot easily be classified as lesbian texts in a straightforward way since they are queerly misaligned with this label. We analyzed two novels, Rosamund Nina Lehmann's Dusty Answer from 1927 and Jean Galcie's Jeune Fiancère Chaudre, Young Girls in a Hot House from 1934. Both of these authors were largely neglected by critics for many years although they arguably merit much more attention. Moreover it is only very recently that scholars have begun to engage with the queer content of these novels. They both narrate desire between young women and men and their protagonists spent much or all of the novel at an all-girls college. Thus they engage with anxieties expressed about female all-female educational establishments which had been provoking moral panic in authors, critics, lawyers and scientists since the late 19th century. So here we might think of Emile Zola and his preface to Adolf Bello's 1879 novel Mamus al Giron ma femme, or the Italian sociologists Giulio Bici and Giovanni Marchesini who published on this subject in 1898. What did they say? Well these self-proclaimed authorities argued that same-sex desire was usually a passing phase, that classic dismissive attitude. To avoid succumbing to this, girls should be kept at home and educated individually rather than being exposed to the apparently corrupt environment of the girls' school. In this environment adolescent passions, the lack of contact with boys, and over-education, whatever that might be, induced women to deviate from the established path towards motherhood and marriage. Similarly, although less damningly, in Great Britain the sexologist Havelock Ellis advised that crushes on students and teachers were not as dangerous as they seemed, they would pass. They constituted, quote, a spurious kind of heterosexuality, the often precocious play of the normal instinct. So they were just something that would be overcome at a certain point. So in these perspectives on desire between girls and women, girls are often posited as passive, constrained by circumstance. Their desires simply fall on those around them, rather than being allowed to emerge as sexual beings who are actively seeking out queer intimacy with some kind of agency. Apparently all that is needed, we read, is a convenient male object of desire and all the queerness will be resolved. If, as sometimes happened, blame for homoeroticism is attributed to people rather than simply context, it often falls on the shoulder of the teacher. For example, Mary Stopes, the eugenics and women's rights campaigner in Sex and the Young from 1926, cautioned firmly that so-called abnormal teachers were, quote, an active danger in the scholastic profession. She advised that head teachers should carefully scrutinize romantic and secretive relationships between staff and pupils. Carol Smith Rosenberg and Lillian Federman have analyzed such relationships, calling them romantic friendships. They have challenged discrete categories of sexual deviance, suggesting instead that forms of female sexual and emotional intimacy should be reported, should be read as falling on a continuum of affect. However, as Lisa Moore has pointed out, by framing these relationships as, these friendships as romantic and making them socially acceptable, both scholars risk sidelining the potential sexual aspect of these relationships. In her work on female friendships and crushes and all girls boarding schools in Britain during the late 19th and early 20th century, Martha Vecinas suggests that it is virtually impossible to answer this question of how sexually aware the participants were, but as she says, some were while others were not, so we should keep an open mind. Vecinas proposes that such friendships only began to be demonized outside specialist scientific publications in the 1920s, while Lisa Moore suggests that this was already happening at the beginning of the 20th century. As regards the figure of the teacher, for Vecinas she may oscillate between a predatory vampire, reminiscent of characters in Baudelaire's Damned Women, circulating from the mid-19th century onwards, or a vulnerable figure at the mercy of knowing, scheming, cruel adolescent girls. More recently even, scholars have begun to explore the spaces of the educational institution as opening up a sort of queer temporal and spatial hiatus which disrupts the normative march of girls towards marriage and motherhood. Our interest in this paper and in our project lies in novels which dramatized passions between girls and women in educational establishments across France, Great Britain and Italy. So in this paper we're focusing on the French and the British context but we're very happy in the questions afterwards to talk about Italian texts which engage with similar issues. Some European cultural texts that depict this topic are well known, such as Colette's Claudine Al-Ecole, Clemence Dain's Regiment of Women and Christa Winslow's play, then adapted to film, it was first a play, Gistern und Hörter, that was first performed in 1930 which then became a film, Madchen and Uniform, Girls in Uniform in 1931. These texts have in common the figure, the narrative thread of the abnormal teacher, or in inverted commas obviously. Colette's novel, The Earliest, is narrated in the first person by the eponymous heroine who takes a rather detached view of the situation. While she does herself have an intimate liaison with a female teacher, their relationship is broken up by another member of staff and Claudine becomes extremely cynical and mocks passion between the teachers and with other girls. She's cruel to other girls and then in a later installment of this series, she proceeds to marry an older man. In Dain's novel, Regiment of Women, teachers are again criticized. This novel has been read by Martha Vecinas as documenting, quote, the damage done by cross-age love. As a younger teacher, falls victim to the charms of an older one. The older teacher is psychologically manipulative and which also leads to the suicide of a younger pupil. So the teacher, uh, the younger teacher can only be saved for her passion by the, for her, excuse me, the younger teacher can only be saved of her passion for the older teacher by heterosexual marriage. That's what resolves the potentially transgressive elements here. And the older teacher is depicted as merciless, cruel, and perverted. Winslow's play also tells of a cruel teacher, but in this case it's slightly different. we see a school girl crush on a teacher. When the school girl, Manuela von Meinhardis, um, declares her feelings, she's castigated by the cruel teacher leading to her suicide. Now we cite these novels to give a bit of context to show that there were several texts dealing with this, uh, uh, moral question that was concerning so many people. And in these novels, a pattern emerges. Homoeirotic desire is evoked, um, only to be ghosted away in Terry Castle's words, either by marriage or by death, the ultimate punishment for queer transgression. We argue that while this narrative was quite entrenched in some contexts and novels, it was not the only narrative circulating at the time. Indeed, the texts we're about to look at tell a different story that seems to give some degree of agency to young women. They may desire both women and men, and while damaged by the hostility and prejudice of normative society, they are still standing, still alive, and still single at the end of the novels. Their queer desires cannot be brushed away as a passing phase, and they are somewhat changed, perhaps stronger as a result of their queer experiences. They've not been swallowed back into heteronormativity or invisibilized in heterosexual marriage, but are queerly transformed. Thus, these novels can be seen as a kind of queer bulldoms for a man, rather than a moralistic tale condemning non-normativity. Oops. Edward Carpenter, the socialist and homosexual who saw homosexuality as part of healthy human variation, rather than, um, rather than a symptom of perversion, was one of the few writers in this period to suggest that adolescents need guidance and open discussion about all kinds of desire, as opposed to condemnation or silence. In The Intermediate Sex, published in 1908, he wrote movingly about, quote, about the need for, quote, the recognition of the solitary and really serious inner struggles that the young may have to face. We posit that the novels we discuss can be read at texts which discuss precisely these inner struggles with more than a hint of sympathy and understanding. As such, they are a welcome mitigation to the often condemnatory or dismissive medical texts about young women's desires, or to some of the pathologizing or negative literary representations. Drawing on a range of critical and theoretical debates, from romantic friendship to backwards modernism, we explore these other non-modern queer women in relation to anxieties about non-normative desires. So in comparing these texts published around the same time in different countries and languages, our aim is to show how instructive it can be to trace trans-cultural depictions of an emerging, reluctantly queer woman, supplementing existing better-known figures from Radcliffe Hall's Stephen Gordon, who Ava's going to talk about, two characters created by Colette, for example. Moreover, in our queer comparative analysis, we trace some of the similarities, or what Susan Lanza has called confluence, between these texts. We show that, while they convey negative discourses about female homoeroticism, they also offer some more affirming narratives about young women who desire queerly. Thus, they reflect the ambiguities and internal contradictions of sexological and sociological and sociocultural discourses of the time, in relation to social and moral anxieties about the all-girls schools. So, having set up the project and our approach, I now hand over to Sylvia, who's going to talk to you about Dusty Answer by Rosamund Lehman. Thank you, Charlotte. Thank you. So Rosamund Lehman, as you can see, in 1909 and 1990, is a lesser-studied member of the Bloomsbury Group, and we all more or less know about this group. She was an accomplished novelist, essayist, editor, reviewer, broadcaster, and a translator. So, I mean, she was really very well-skilled with the knowledge of languages and culture. She regularly contributed to the leading papers of her day, including the listener and the spectator. She wrote most of her fictional work in the period between the wars, whereas afterwards, the gap between her next novels is increasingly longer. The tragic premature death of her daughter Sally had a powerful impact on her work, and critics agree on the fact that her later fiction was not of the same quality as the earliest one. In 1902, she was appointed a CVE, and in 1987, she was made a companion by the Royal Society of Literature. There's a new slide, please. According to Judy Simons, Lehman's writing is, quote, simultaneously subjective and ironic, anti-establishment and traditional, ethereal and pragmatic, and displays the contradictory impulses that bridge the gap between the mainstream narrative tradition and the 20th century modernist consciousness. This tension between tradition and innovation, alongside the nostalgic, almost idealized view of the pre-war era, which we might identify as a form of backward modernism that Charlotte was talking about earlier, animates her first novel, Dusty Ansa. Published in 1927, it was very successful in the UK and in the US, and was translated quickly into both French in 1928 and Italy, in Italian, sorry, in 1930. It was about the personal and sentimental growth of the protagonist, whose name is Judith Earl, from childhood to womanhood, and focuses on her emotional and sexual awakening. The novel is divided into five parts. Each section is about the face of this coming-of-age narrative, starting when the protagonist is only 18 years old. It then takes us back to her childhood, and then back again to the narrative present, in a sort of a queer temporal circularity. Judith is the only child of a wealth to the family and grows up in a big house in the Thames Valley reared by governors, and her closest neighbors are the wealthy five cousins who go there for the summer holidays, and these are their names, Charles, Julian, Rodney, Martin, and Mariella. In the course of the narrative, each male cousin becomes a potential suitor for Judith. The first one is Charles, who is idealized by the young protagonist as the perfect embodiment of beauty. However, he's killed in the First World War, Judith develops a fondness then for Roddy, but soon realizes that there is another person in the house who spends most of his time with Roddy, and his name is Tony, a friend from Cambridge University. As the narrative proceeds, it becomes increasingly clear that Judith likes Roddy, and that the latter is involved with Tony, who embodies the figure of the Cambridge homosexual student. In one crucial episode of the novel, Tony and Roddy lie on a sofa embracing each other, and Judith and Tony exchange glances full of jealousy towards one another. This triangulation of queer desire marks the moment in which Judith acknowledges that Tony and Roddy are not just friends. In addition, it is also a proleptic anticipation of the queer world animating university life, which awaits Judith herself. The central section of the novel is about Judith's experience at one of the all women's colleges in Cambridge. It is the first time that the privately educated Judith attends an institution. She soon makes friends with Jennifer Baird, and they embark on an emotionally charged relationship. The description of the special friendship between Judith and Jennifer is rich with references to their embodied beauty and mutual physical appreciation, as well as pagan ideas of perfect idealized beauty. As is clear, for example, in a scene when they swim alone together. Jennifer stood up, stretching white arms above her head. Her cloud of hair was vivid in the blue air. Her back was slender and strong and faultlessly molded. Glorious, glorious pagan that I adore, whispered the voice in Judith that could never speak out. You are so lovely, Jennifer said, watching her. Unlike Judith, who cannot overtly speak out, Jennifer instead articulates her feelings, thus showing an awareness of her own sexuality. Later on, she says, you mustn't love anybody. I should be jealous. I love you. Significantly, Judith and Jennifer are not isolated in the girls' community in Cambridge. Rather, they draw a circle of friends around them and organize encounters in in Jennifer's room every night. However, an abrupt change to their relationship is caused by the arrival of another female character, Geraldine Manners, who soon becomes Jennifer's new companion. Judith's antagonist is described like a textbook sexual invert as depicted by sexologists. She has short black hair, mannish look, and is unfriendly and cold. Quotation. The hair was black, short, brushed straight from the forehead. The heavy eyebrows came low and level on the low brow brow. The eyes were long slits, dark circled. The cheeks were pale, the jaw heavy and masculine. The repetition of heavy and the emphasis on the darkness of Geraldine's traits seem to evoke the psychological aspects of her masculine, quote, ruthless personality. Judith and Geraldine confront each other in an argument about Jennifer. After that, Jennifer isolates herself as she feels ill and decides to leave college for good. She disappears from Judith's life and they have a final exchange the night before she leaves. Jennifer asks her not to write to her. She'll be the first one to get in touch with her. The trope of unspeakability that comes up several times in their relationship is pivotal in this final conversation. Significantly, the lesbian triangulation, which characterizes this central section of the novel, involves three women with different identities or gender identities. Jennifer and Judith are two more feminine characters, or so are characterized by the narrative voice, and their relationship does not emulate or replicate somehow heterosexual dynamics, but is rather more fluid and oscillates ambidiously between special friendship and the love affair. Instead, Geraldine is stigmatized as a mannish lesbian and her relationship with Jennifer is easily recognizable as somehow re-enacting heterosexual dynamics. As a consequence, according to Andrea Lewis, Lehmann removes the recognizable lesbian relationship from the novel and affects what Terry Castle refers to as the ghosting of the lesbian, end quote. On one level, then, we see here an affirmation of lesbianism as ultimately impossible, doomed and fleeting, backward and stigmatized. However, Judith does not disavow her love for Jennifer. Indeed, she actively attempts to meet her again at an assignation in a Cambridge cafe, and is only at the end deeply disappointed when Jennifer doesn't turn up. Then, when she goes home, after finishing her studies at Cambridge, she resumes her connection with the Fives, and especially with Roddy. They have a brief intimate liaison, and later she declares her feelings towards him in a letter, but Roddy never replies. The other two cousins, Julian and Martin, are also put out quickly out of the picture. Martin proposes to her while Julian asks her to become his lover, but she refuses them both. Eventually, given Jennifer's failure to materialize at their agreed rendezvous at the end of the novel, and even though the four male cousins were theoretically all potential suitors, Judith chooses to remain alone. Rejecting marriage was a rather unusual choice for a woman at the time, and confirms Judith as an unconventional character, who sidesteps and moves beyond normative relationships. This is somehow anticipated in the epigraph to the novel, taken from George Meredith's Modern Love, published in 1862, which points to the complexity of the themes developed in the novel, including Judith's uncertain present. Ah, what a dusty answer gets the soul when hot for certain certainties in bizarre life. Thus, even if Lehman adopts a certain realist style typical of sentimental novels, with which she has also been associated, in dusty answer she weaves a number of queer tensions that ultimately remain open and unresolved. Shabbaton with Jean Galzy. I unmute myself. Now I'm going to talk about Jean Galzy's novel. So many of the tensions around homoeroticism between women and ambiguous approaches to modernism conveyed in Lehman's texts can also be identified in the work of Jean Galzy. In France, Galzy had published many novels, including several that dealt with desire between women. Bournemont Pellier, she went on to study at the École Normale Supérieure de Jeune Fille in Sèvres, which had already been immortalized in fiction by Gabrielle Reval in Les Sèvriennes in 1900. Galzy subsequently worked as a teacher in schools in Montpellier, Amiens, and finally in Paris, where she frequented queer women intellectuals such as Réve Vivien and Nathalie Barney. She was a member of Barney's Académie des Femmes, founded in 1927. She won several literary awards, including the Prix Femina in 1923, and was later on the jury of that prize for many years, and continued to write until the end of her life. But by that time, she'd sort of rather fallen out of fashion and it was a rather solitary and humble end to her life and career. Like so many of her novels, Young Girls in a Hothouse is considered to be based on Galzy's own experiences at Sèvres, although she refuted this and said she was just writing about a context that she knew. So the protagonist is Isabelle Rive. She's starting to become a teacher at Sèvres, and she develops a sexually charged relationship with her English tutor, Gladys Benz. Isabelle fantasizes about Gladys. They spend many hours together in the privacy of Gladys's room where they seem to embrace and caress each other. On one occasion, they lean out of the window and drink rain together from Isabelle's hand. They share an intimate moment which Isabelle feels makes every fibre of her body quiver with joy. The relationship between the two women is presented as potentially scandalous and embarrassing. It causes Isabelle to blush violently, and she tiptoes secretly to Gladys's room so she won't be seen. She also feels a strong sense of possessiveness about Gladys. This is an exclusive friendship, or she wants it to be that way. But Isabelle also socializes outside the all-girls or female environment of the school, with male friends of one of her classmates' brothers. It's through this group that she meets Marianne, who becomes an alternative male object of desire, although he is engaged to her school friend Suzanne. In her mind, Isabelle struggles with feelings that draw her first to Gladys and then to Marianne, as well as with jealousy that they might develop a relationship which excludes her. One night when she is staying in a friend's country house with classmates, including Suzanne and Marianne, she and Marianne meet outside and kiss passionately. However, subsequently her worst fears come to pass. She discovers that Marianne and Gladys are intimately involved, much to her and Suzanne's dismay. Desperate and anguished, Isabelle fails her final exam and leaves the school by train to return home alone. So recently, as we've said, this text was quite well received when it was written, but the queer content was not engaged with. Whereas more recently, some scholars have begun to engage with the queer narratives here. Jennifer Milligan argues that the novel contrasts with Belle Epoque sapphic authors, such as Leanne de Pougy and Nathalie Barney, who focused very much on women-only environments and glorified love between women. Galsey's work, according to Milligan, can be seen alongside that of other authors, such as Lucy de la Rue Mardus and Romaine Brooks, writing largely in the interwar period, who, quote, wholeheartedly rejected this utopic, segregated vision of sapphism and chose to examine lesbian relationships within a wider context. Milligan argues that Galsey's novel superimposes an aggressive, penetrative, heterosexual relationship over Isabelle and Gladys's bond, and that Isabelle can only fully experience her desire for Gladys by fantasizing an intimate moment between Gladys and Marianne, and superimposing herself over Marianne in this fantasy. Instead, for Jennifer Welty Walters, who has also analyzed the novel, Gladys is a spectre of a damned 19th-century vampiristic lesbian who haunts the novel, and this is confirmed by Isabelle's allusion to various familiar tropes associated with the pathologization of desire between women in the 19th century. So she cites Baudelaire's Les Femmes d'année, for example. She talks about having, quote-unquote, impure thoughts. She mentions Freud. She mentions psychiatry as negative discourses on desire between women. Certainly, Isabelle's feelings for Gladys and her murderous rage discovering Gladys's betrayal lead to some powerful expressions for anger. At one point, she goes into Gladys's room and rips her dress to shreds, and it seems like she really wants to visit some kind of physical harm on Gladys had she been there. This seems to confirm problematic associations of homoeroticism in girls' schools with some kind of hysteria. We suggest that Galsey's novel constitutes a fascinating example of backwards modernism, ambiguous backwards modernism, on a variety of levels. First, while Galsey herself frequents the Académie des Femmes and exchanged many letters with Natalie Barney throughout her life, they were good friends, she has chosen to depict not overt lesbian relationships, but a rather confused and isolated young woman. Isabelle finds herself in an all-female school, one that allows her some degree of freedom, but it remains an environment where issues like sexuality are not discussed. Secondly, agreeing with Milligan's reading of Gladys as a hangover from 19th century vampiristic lesbians, she too adds a layer of backwardness. Isabelle seems to want all-consuming passion that will almost annihilate her. This relationship is going to be negative for her in some way. There may be some moments of calm, reciprocal intimacy between Isabelle and Gladys, but the relationship is marked by a clear power imbalance because Gladys is a tutor. On the one hand, there's a partial refusal of the homophobic interpretation of relationships between women in girls' schools as featuring older congenitally predisposed abnormal teachers who prey on younger girls, using that negative perspective that I cited earlier. In contrast, Gladys is potentially bisexual and it is Isabelle who seeks her out, not the other way around. It's not the teacher preying on the vulnerable girl, it's the student actively starting up a relationship with the teacher. But we can certainly say that their relationship is far from being a celebration of the bond between women as a potential source of strength. The overtones of stigma and shame are ever present for Isabelle. Galsey's message and motives for depicting this inner turmoil are unclear. Is it the case, as Milligan argues, that Marianne is a mere vessel who serves to allow Isabelle to project her desire for Gladys through a legitimate heterosexual pairing according to the norms of the day? Or is Isabelle just overwhelmed by her first experiences of sexual desire and experimenting with potential partners? In any case, it is she who drives the encounters with both of them. She is not passive with her desire falling anywhere. She is seeking out these encounters actively and she discovers she's to be disappointed by both of them. Marianne is serially unfaithful and Gladys seems to have been playing with her. So this leads to a deep sense, obviously, of rejection. Discarded by both Marianne and Gladys, exiled from the community at Sèvres because she fails her exams, she has no access to any kind of supportive community. She has no access to the elite spaces of the Académie des Femmes that Galsey frequented in real life. There is no queer community. Everything seems tainted and she and she laments that she will never forget them, Marianne and Gladys, or be able to think of one without the other. So the queer superimposition of herself over the figure of Marianne has now become a heterosexual union between Gladys and Marianne which excludes her. Queerly misaligned with both normative society and modernist sapism, Isabelle is caught between a desire to look forward to what from her perspective and where and to turn back to what and how. And this is rendered explicit in the opening of the novel which echoes the queer temporal circularity of Lehmann's novel. The initial pages recount a scene that occurs several years later for the 50th anniversary celebrations of the École Normale in Sèvres which took place in 1931. There Isabelle and many other alumni, almost all of whom seem to be working as teachers, listen to the current students singing Orpheus and Eurydice. The narration of this is interrupted just at the pivotal moment when Orpheus is leading his wife back to the world of the living and is not supposed to look backwards at her by the voice of one of Isabelle's former classmates interpolating her by name. Isabelle, or should we say Orpheus, looks up, up at her friend and looks back, back at her past. The symbolism of this reference is deeply ambiguous. What kind of loss does Isabelle risk in attending this anniversary? And in looking backwards, what is she provoking? Potentially a traumatic encounter with events that she has sought to repress and overcome? Or is she trying to make sense of her life? We don't know. Heather Love, who evokes specifically the story of Orpheus and Eurydice as emblematic of queer backwardness, suggests that we might read Orpheus's lament on losing his wife as quote an effect of the particular losses suffered by queer historical subjects and as an allegory of the historian who seeks to save queer figures from the past only to have them fade into shadow unreachable. Isabelle had already lost the queer objects of her desire before returning to Sèvres and it is not them who she sees as she lifts her head. They are unreachable. She sees Solange, another friend, who was not caught up in the emotional denouement that the reader will then discover at the final pages of the novel. It is not this friend, Solange, that Isabelle is seeking but rather the shadowy wraiths of the past of Gladys, Marianne and herself which are then reanimated for the reader in the course of the novel only to fade, leaving her alone. So now I pass back over to Sylvia for the final part. Thank you. So in order to bring these novels together we draw now on Susan Lancer's concept of confluence which is the practice quote of exploring related phenomena that may share underlying causal connections. According to Lancer confluence allows us to study genetically independent instances in order to see whether they share a cultural deep logic. Lancer developed this approach in the field of sexuality studies to answer the frustrating problem of mapping the influence of queer texts in history. In this section we trace some instances of confluence and suggest the underlying logics that may bring them together. One clear shared theme between the two novels is the influence of negative sexological discourses of female homosexuality. Let us explore two examples. Let's start with Dusty Hanson. When in Cambridge Jennifer leaves Judith for Geraldine, described as I said before as a stereotypical Manish lesbian. One year later Jennifer writes to Judith. Why did you ever waste your time over me? I'm rotten and I always shall be. As you see I'm at home now, but I shun stay long. There are far too many raised eyebrows and disapproving chins about. I always prophesied I'd come to a bad end, didn't I? I seemed to like nearly all the vices. End quote. A similar awareness of vices surfaces towards the end of Jean Guelzy's novel, but in relation to a jumbled list of Isabelle's frame of reference. But the last damn women, the seven sorrows of the origin, her own adolescent impure thoughts, Freud and psychiatry. She also laments the physical and psychological suffering caused by an awareness of her situation. Quote, she felt a bitterness rising within her. It swelled in her throat, became suffocating. How long would this last? Would she live like this forever with this weight in her chest? In this empty sterile hell set aside from the rest of the world? End quote. When comparing these citations, several recurring themes are immediately apparent. A sense of being rotten, born bad, destined to endure misery and suffer punishment and eventually even death. Here we can see how pathologizing ideas about sexuality and desire, which traveled across Europe through translations of sexological texts, also traveled across contexts and languages in literature. The references to Freud and psychiatry in Guelzy's novel make this link explicit, but also show how the stigmatization of queer desire was reinforced through medical, literary and religious texts. There are also similarities in narrative structure. Each novel can, to some extent, be considered a queer visitation of the Bildungsroman, as it tells the story of a lonely girl who seeks companionship and sexual and emotional fulfillment with another young woman. Like the main heroes whose journey to maturity involves leaving and then a regaining child at home, Judith and Isabel's trajectories are intellectual, psychological and geographic. Like other women protagonists of Bildungsroman novels, however, they contest the notion that personal fulfillment is to be achieved as a consequence of one's successful integration into society. Moreover, like other coming-out Bildungsromanes, they show the centrality of modernity to sexual subjects per se. Lehmann and Guelzy's novels present protagonists whose journeys involve willingly transgressing the norms of sexuality and gender in various ways, and a sharp awareness of the penalties that they incur. Moreover, there is a sense in which both protagonists struggle against the negative consequences of their homoerotic relationships, rather than seeking to conform to the norms, or lament their and outsider status in relation to dominant society and their former social circles. In terms of backwards modernism, there is plenty of shame, isolation, self-hatred and stigma, and both novels narrate, in Heather Love's words, quote, painful negotiations of the coming of modern homosexuality, infused with a sharp sense of the corporeal and psychic costs of homophobia, end quote. Judith and Isabel experience loneliness and alienation and unburdened by the impossibility of speaking out about their feelings, either to themselves or to the people they desire. This inability to articulate their emotions has potentially devastating consequences. However, there are also moments of queer affirmation where characters refuse to be cowed by their situation. Sorry, I... Sorry, there was a... If you can please bear with me for a moment. I need to find the page again. Sorry about this. It is vital then, sorry, to consider which characters speak the negative statements and whether they are the last word on the subject. In Dustianza, it is Jennifer who categorizes herself as rotten, not the protagonist, Judith. She is saddened by the loss of Jennifer, but not overtly ashamed of her feelings. Therefore, while Jennifer decides to finally escape by leaving Britain for France, Judith has a different experience. Quote, She was going home again to be alone. She smiled, thinking suddenly that she might be considered an object for pity. So complete was her loneliness. Yet it was impossible to feel self-pity. Perhaps it was the train's motion that benumbed the mind, soothing it to a stage that seemed like happiness. She was a person whose whole past made one great circle, completed now and ready to be discarded. Soon she must begin to think, what next? But not quite yet. In this case, loneliness does not lead to despair. And the journey back home is not the sign of a tragic social failure. Rather, in Jack Halberstam's terms, it constitutes a more promising form of queer failure that offers an alternative future to heteronormative models. Judith has experienced the difficult transition from childhood towards maturity. And from the viewpoint of the Bildungsroman, she has completed the phase and is now ready to look forward. In a similar way, Guelzi's protagonist, Isabel, feels cast out and unable to breathe. However, soon afterwards, she gazes at her face reflected in a train window and is surprised by what she sees. Quote, It was her face, but so transformed that she couldn't take her eyes off it. She lent into herself deeper than she had ever been able to before, further beyond all turmoil. And that discovered a secret and short witness, a soul within herself that was untouched by all her disordered experiences, which would give her the faith to keep on living. End quote. In keeping with the ambiguous elements in the novel, it is not clear whether this is a vision of a pre-existing self, which will allow Isabel to effectively reset her life in line with normality, or whether her changed face signals how much she has developed as a result of her experiences. She will survive the noisy passing scandal of the current moment, thanks to her newly strucken inner self. Strikingly, both Guelzi and Lehmann's novels end with the protagonists staring at their reflections in a train window as they travel back to their childhood home alone. While we have not yet managed to trace any definitive line of intertextual influence between the two novels, it is certainly possible that Guelzi had read Lehmann's novel either in English or in a French translation. As regards the unraveling of the term lesbian, this occurs most strongly in relation to the bisexual aspects of the complex love triangles that we have analysed. Judith desires and has physical relationships with both men and women, and the same applies to Isabel. Indeed, while Isabel may be using Marianne as a male screen on which to project herself in her fantasies about Gladys, she continues to desire both of them, wishing at the end of the novel that Gladys would be hers again, and perhaps she could hope once more to attain Marianne. The verb attend, that you find also in the original, in a quotation in a slide, with its multiple connotations of reaching, catching, attaining, finding, and creating, leaves open the possibility that Isabel derives pleasure for both from physical intimacy with Marianne, and from identifying as him in her fantasies. In this scenario, he may be more than simply screened for heterosexual substitution. Rather, Isabel seems to want both Gladys and Marianne together. Judith's most evident triangular moment occurs at the end of the novel, while she is waiting, in vain, for Jennifer in a cafe in Cambridge, and catches sight of Roddy and Tony through the window. This confirms her suspicion that they are involved in a long-term queer relationship, but she is also dismayed by effectively being abandoned by both Roddy and Jennifer, although she seems resigned to this. She reflects on how Cambridge University simply disregards women and privileges men, and we might read this as a veiled comment about how queer relationships are easier for men than women, especially in this elite academic context, that is Cambridge University. Thus, both Isabel and Judith are doubly jilted, but significantly are seeking to have relationships exclusively with women, and there is a queer edge to Isabel's desire. Furthermore, while we certainly don't see parallels with more established queer communities, like the Bloomsbury Group or the Academe de Femmes, both protagonists also encounter a few other queer individuals in the novels. Judith socializes with more queer women than Isabel, and also comes to terms with her jealousy of Roddy's relationship with Tony. In Gansi's novels, Isabel's eyes are also open to the fact that she's not the only young woman to have feelings for Miss Gladys Benz, when Suzanne reveals that she too was the subject to Gladys's charms before becoming engaged to Marianne. Thus, there is also an incestuous dimension to both narratives, which seems almost to normalize partner swapping, even as it causes pain. This might reflect layman's knowledge of the Bloomsbury Group and Gansi's affiliation to Barney's circle of partner swapping sophists. What is clear is that both protagonists are far removed from the model of heterosexual monogamy and marriage, which was the aspiration and ultimate achievement of the protagonist of Reval's novel about Sevres, the closest predecessor to Gansi's novel. So the confluence of assumed social values and norms in these novels and the resonances between the transgressions of these are striking. Predominantly negative sexological discourses on queer desire constitute, to quote again from Susan Lancer, one underlying causal connection and a cultural deep logic with which these two novels share. However, the moments of understated feminist queer positive self-affirmation that Judith and Isabel experience, which resonates so closely, go against the dominant social cultural norms. In their quiet ways, these novels share a logic which affirms that women can desire other women, experience queer desire and not be broken by the experience. Indeed, it seems on some level to strengthen them, to reinforce them and give them an additional inner resource. Isabel and Judith's relationships may end and cause them sadness, but they have been able to live out their queer desire to some extent and know of other women and men who have had similar experiences. Finally, we can draw these texts together in relation to a further cultural deep logic that they share, the lasting impact of these homoerotic experiences on the protagonists. Rather than a passing face, it is clear that, for better or worse, Judith and Isabel are irrevocably changed by their relationships with other young women. Indeed, the feelings they evoke have a profound effect on the protagonists for the rest of their lives and not just within the all-girls institutions. Thus, these novels insist on the transformative effect of homoerotic desire. Thank you for your attention. Thank you. Grazie. Ringrazio sentitamente Charlotte Ross e Silvia Antosa per questo splendido viaggio letterario che interroga l'emergere progressivo e contrastato di una soggettività lesbica nel campo letterario e che interroga i complessi rapporti tra riproduzione della norma sessuale e sovversione della norma sessuale attraverso una finissima analisi di romanzi che personalmente non conoscevo, a parte il classico per noi lesbiche Pozzo della solitudine. Lascio ora la parola a Eva, Eva Feule, che è dottoressa di ricerca in letteratura francese contemporanea presso l'Università di Verona e Saint-Etienne. Eva Feule insegna francese nella scuola pubblica, è ricercatrice associata al centro di ricerca IHRM di Lione e al centro di ricerca Polites di Verona, è autrice di una splendida monografia dedicata al pensiero e all'opera letteraria di Monique Wittig che si intitola Corpo a corpo con il linguaggio, il pensiero e l'opera letteraria di Monique Wittig e Eva Feule si interessa di letteratura femminista e lesbica e di critica letteraria queer. Il suo intervento di oggi si intitola Rappresentazioni e Autorappresentazioni FAM negli Stati Uniti post Stonewell racconterà un'importante produzione letteraria, forse non così nota in Italia, di lesbiche cosiddette FAM che sono state spesso raccontate attraverso lo sguardo delle loro amanti Butch e l'intervento di Eva esaminerà appunto la costruzione dell'identità FAM a partire da alcuni scritti autobiografici. Lascio la parola a Eva e che ringrazio di essere con noi. Grazie a te, grazie a tutte, anche io ci tengo a ringraziare la Società Italiana delle Storiche e tutte voi sono molto contenta di essere qui oggi insieme a voi. Come diceva Sara, oggi il mio intervento si concentrerà sulle rappresentazioni e autorappresentazioni FAM. Ecco, questo termine, il termine FAM o nella sua accezione più antica FEM, era in uso negli Stati Uniti fin dagli anni trenta del novecento ed è un'espressione vernacolare utilizzata in seno alla comunità lesbica per identificare quelle donne che prediligono per se stesse codici e stili di genere socialmente considerati e considerabili come femminili. Sebbene oggi il termine venga utilizzato da una serie di soggettività che si identificano nello spettro della femminilità queer, storicamente esso è legato all'esperienza lesbica e in particolare alla sottocultura lesbica working class. Accoppiato alla parola vernacolare che indica la lesbica mascolina, Butch, come diceva prima Sara, nella diade Butch FAM, il termine FAM occupa un posto rilevante nella cultura queer americana e oggi potremmo dire anche al di fuori di essa. Nel corso di questo intervento mi concentrerò, come dicevo, sulla rappresentazione e l'autorepresentazione FAM, in particolare all'interno, nel contesto della diade Butch FAM. Prendendo le mosse dalla disamina di alcuni passaggi di due classici della letteratura queer, il Pozzo della solitudine di Red Cliff Hall che abbiamo già citato e Stone Butch Blues di Leslie Feinberg, nella prima parte del mio intervento analizzerò alcuni tratti ricorrenti della rappresentazione della lesbica femminile che emergono quando a raccontarla è una Butch. Ovviamente è una premessa ed obbligo, il Pozzo della solitudine e Stone Butch Blues sono due romanzi molto diversi tra loro, appartenenti a epoche storiche differenti e anche a sostrati sociali diversi. Inoltre, se Stone Butch Blues può essere definito un classico della letteratura Butch FAM, il Pozzo della solitudine è solo impropriamente riconducibile a questo genere perché, pur presentando figure di maschilità e femminilità lesbica, le sue protagoniste non utilizzano i termini Butch e FAM per parlare di se stesse. I due romanzi, tuttavia, hanno costituito per generazioni intere di lesbiche e non solo un riferimento simbolico e culturale molto importante, proprio per questo mi sembra interessante metterli in relazione a degli scritti di lesbiche FAM meno noti ma sicuramente non meno importanti. Quindi nella seconda parte di questo intervento mi concentrerò su testi autobiografici scritti da tre autrici che si auto identificano come FAM. In particolare si tratta di Mini Bruce Pratt, John Nessol e Amber Ollibow e lo farò al fine di sondare in che misura la loro narrazione e fornisca una rappresentazione FAM più complessa e articolata di quella che emerge nei romanzi che ho citato per mostrare insomma come la narrativa FAM decentri la prospettiva dello sguardo Butch su cui è costruita la rappresentazione FAM in questi due romanzi. Proietto un attimo delle slide giusto per introdurre il primo il primo romanzo. Allora come dicevamo prima l'abbiamo già nominato il primo romanzo di cui parlerò è scusate The Well of Loneliness il titolo italiano è il Pozio della solitudine è un romanzo scritto da Margaret Redcliffe Hall che aveva scelto di farsi chiamare anche John e che qua vedete in piedi in atteggiamenti chiaramente eh maschili accanto alla sua compagna di vita la Edina Trubridge eh pubblicato nel millenovecentoventotto eh in Inghilterra e e subito processato per immoralità il Pozzo della solitudine vede come protagonista un'invertita eh dell'invertita così come veniva tratteggiata nei manuali di medicina all'inizio del secolo scorso la protagonista Stephen Gordon eh che si chiama così si chiama Stephen con un nome maschile perché i suoi aristocratici genitori erano convinti che avrebbero avuto un erede maschio eh dell'invertita dicevo Stephen possiede tutti i tratti eh caratteristici eh il suo aspetto è contraddistinto cito da un non so che di trascurato una rude assenza di grazia spalle troppo larghe gambe troppo lunghe e una struttura muscolare per natura forte e nervosa resa bene evidente dalla sua dedizione per attività prettamente maschili come la caccia e la scherma nelle quali tra l'altro eccelle molto prima di definirsi lei stessa eh un'invertita in seguito alla lettura di un'opera di Kraft Ebing che trova all'interno della biblioteca del padre Stephen è già attratta dalle donne e per questo il suo destino le appare segnato da un'infelicità e una solitudine inevitabili così quando incontra Angela la prima donna di cui si innamora l'impossibilità di un avvenire sereno viene chiaramente preannunciata dall'autrice Stephen si è appena imbattuta in Angela quando cito un lieve brontolio di temporale venne da ponente ove si accumulava una nuvolaglia pur purea di cattivo presagio Angela Crosby è una ex attrice americana eh di una rara e angelica bellezza a capelli biondi dai riflessi argentei occhi di un azzurro insolito pelle bianchissima che la fanno apparire allo sguardo di Stephen cito come un fiore raro e pallido senza macchia né colpa da parte sua Angela è incuriosita dall'aspetto virile di Stephen e ben presto le due cominciano a frequentarsi in segreto però perché Angela è sposata con un burbero e grezzo magnate di Birmingham la descrizione del personaggio di Angela è fin dalla sua comparsa carica di ambiguità il suo desiderio nei confronti della protagonista viene infatti presentato più volte come ipocrita e falso sebbene nei suoi gesti e nelle sue azioni Angela dimostri di essere attratta da Stephen a parole sembra solo essere capace di ricordarle l'impossibilità del loro amore che sminuisce definendolo cito qualche innocente bacio da educanda il personaggio di Angela mette inoltre Stephen continuamente di fronte al suo più intimo timore ovvero essendo un'invertita e non un uomo Stephen sarà per sempre indegna d'amore questo timore che nel corso della storia Angela tristemente consolida lasciandola tormenterà la protagonista per il resto dei suoi giorni al punto da impedirle di godere del genuino sentimento che un'altra donna proverà per lei si tratta di Mary Llewellyn che Stephen incontra durante la guerra quando entrambe lavorano per i soccorsi sanitari Mary è un'infermiera e Stephen invece è un autista di autoambulanze è il 1917 e l'autrice ci dice che in un momento di emergenza nazionale lo Stato non può fare a meno di avvalersi della manodopera delle invertite cito erano forti e valide potevano sostituire un uomo sapevano anche organizzare quando si dava libero sfogo al loro talento a quell'epoca Stephen è sempre più sicura di sé al punto da assumere con risolutezza il suo aspetto mascolino di invertita di Mary invece sono messe in risalto la giovanissima età l'ingenua onestà e la debolezza esatto opposto di Angela la giovane e candida infermiera non ha lo stesso sfuggente fascino della ex attrice americana come Angela però Mary è incuriosita dall'ambigua virilità di Stephen e piano piano le due cominciano a precontarsi e diventano amanti sebbene questo nuovo amore sia tutt'altro che ipocrita e falso la convinzione che il destino dell'invertita debba essere infelice tormenta Stephen per lei Mary non può che essere in fondo eterosessuale per questo nonostante Mary dimostri di amarla Stephen sprofonda sempre più nella tristezza e nell'angoscia comincia a sentirsi un peso per Mary e a dubitare dell'autenticità della loro relazione e in particolare comincia a dubitare del sentimento di Mary nell'epilogo del libro come immagino sia noto un po' tutte Stephen decide per Mary sostenendo fintamente di non amarla la caccia di casa e fa in modo che ad aspettarla fuori dalla porta ci sia Martin uno spasimante di Mary che agli occhi di Stephen possiede tutte le qualità biologiche e non per poterla rendere felice sebbene molto diverse fra loro le figure di Angela e Mary sono entrambe destinate a ritornare l'inautenticità l'inaffidabilità del desiderio lesbico se manifestato da una donna che non è classificabile ehm come una vera invertita influenzata dalle teorie sull'inversione di Heveloch Ellis e Kraft Ebbing più che dalla testimonianza di vita della sua fedele compagna Lady Una Trubridge eh Red Clifford dipinge Angela come una donna annoiata seduta dalla perversione di Stephen e Mary come una giovane ingenua mossa più da compassione materna che da un vero desiderio erotico per la maschilità femminile di Stephen. Tra l'atmosfera e cupi del romanzo decadente di inizio novecento nessuna delle due sembra poter nutrire insomma un autentico desiderio lesbico. Il secondo eh romanzo invece eh eh Stone Butch Blues eh Stone Butch Blues è un romanzo del 1993 scritto da Leslie Feinberg che vedete nell'immagine eh nella nella diapositiva accanto c'è la copertina della prima edizione ehm del romanzo ehm e ehm qua vedete invece la copertina della traduzione italiana del romanzo ehm che esce nel duemila e quattro per la casa editrice Il dito e la luna ehm e accanto una fotografia di Leslie Feinberg insieme a eh Minnie Bruce Pratt la sua compagna eh in Italia nel duemila e quattro proprio in occasione del la presentazione della traduzione del romanzo. Ehm in Stone Butch Blues la rappresentazione della lesbica femminile è decisamente più positiva. Ehm come dicevo Stone Butch Blues esce negli Stati Uniti nel millenovecentonovantatré quindi tre anni dopo l'uscita di gender trouble eh di Judith Butler e in un contesto decisamente più favorevole alla alle narrative femme, butch e transgender. Eh Stone Butch Blues contraddice le idea le idee della sessuologia del primo novecento. Leslie Feinberg infatti mette in scena delle lesbiche femminili che desiderano attivamente e autenticamente le loro amanti butch e che con loro condividono una socialità alternativa fatta di amori e balli considerati illegali e di retate della polizia. Il testo è una testimonianza sotto forma di romanzo della vita della sottocultura lesbica americana working class degli anni sessanta e settanta. Jess, la protagonista, narra in prima persona la sua adolescenza butch, le sue lotte sindacali, i suoi amori butch femme e il suo faticoso percorso di affermazione di genere che la vede attraversare nella parte finale del romanzo gli impervi territori transgender. Il romanzo ha toni assolutamente diversi da quelli del Pozzo della Solitudine e si apre con una tenerissima lettera scritta da Jess, la protagonista, a Teresa, la femme con la quale ha avuto una relazione d'amore molti anni prima. In questa lettera Jess confessa di non aver mai smesso di amare Teresa e provando a ipotizzare quali strade potrebbe aver intrapreso, la immagina tornata all'eterosessualità e cito, la immagina sdraiata al fianco di un metalmeccanico disoccupato intenta ad ascoltare il respiro regolare dei suoi figli addormentati. Insomma, la preoccupazione della butch per un possibile ritorno all'eterosessualità della femme apre il romanzo, così come il sospetto che il desiderio femme non sia del tutto autentico, segna fin dall'inizio l'educazione sentimentale che Jess riceve dalle vecchie butch. Quando giovanissima si invaghisce per la prima volta di una donna, Jess esita ricordando, cito, che molte delle vecchie butch mi avevano avvertita che a volte i colleghi uomini spingevano una donna ad andare a letto con una donna uomo per scherzo, così poi dopo poteva raccontarlo a tutti. Il destino della femme non sembra però segnato qui in Stone Butch Blues, come nel Pozzo della Solitudine, dal ritorno inevitabile all'eterosessualità. Jess non dubita mai che esistano delle femme che vogliono davvero stare con le butch, ma un altro timore si fa spazio nella percezione della protagonista. Quando Teresa comincia a prendere parte alle riunioni del movimento femminista, l'adesione ai valori propugnati dal lesbo-femminismo minaccia la solidità della relazione. Sebbene Teresa non metta mai veramente in dubbio la validità delle identificazioni butch-femme, in lei sembra farsi spazio un nuovo orgoglio femminile, che la giovane femme proietta anche su Jess e che quest'ultima invece maldigerisce. Jess non le nasconde infatti il suo disagio nei riguardi della retorica femminista e addirittura le confessa il suo desiderio di porre fine una volta per tutte alla discrepanza che vive tra la sua espressione di genere e il genere che le è stato assegnato alla nascita intraprendendo un percorso di transizione. La relazione a quel punto si rompe. Teresa sostiene dolorosamente di non poter, di non essere capace di supportare Jess in questa decisione e la abbandona al suo destino. Questo è in realtà il primo e unico vero momento in cui Jess racconta di non avere il sostegno di Teresa. Infatti nel romanzo la figura della femme è raccontata e celebrata proprio a partire dalla sua capacità di sostenere la butch nella sua non conformità di genere. Il personaggio di Teresa tra l'altro è un personaggio molto particolare che è di centrale importanza per la storia ma è più presente nella dimensione onirica e nostalgica di Jess che nel reale intreccio narrativo. Pensate che la storia con Teresa inizia e si esaurisce in 40 pagine delle 344 totali del libro. Teresa per Jess costituisce il porto sicuro, il suo più grande rimpianto. Nell'immaginario della giovane buccia Teresa è colei che è capace di, cito, sciogliere la sua pietra, di prendersi cura di lei, di rispettare la sua sofferenza, di abbattere le barriere emotive che Jess erge intorno a sé, permettendole di aprirsi e aiutandola non solo a capire ma anche ad esprimere i suoi sentimenti. Teresa è talmente celebrata per questa sua capacità che anni dopo, molti anni dopo, con la fine della loro relazione, quando Jess la incontra per caso in un supermercato accompagnata da un'altra buccia, la sua prima reazione è quella di pensare che quest'altra buccia non meriti le cure di Teresa. Sebbene, a differenza del Pozzo della Solitudine, Stone Butch Plus sia senza dubbio un romanzo pro-femme, la sua narrativa rimane butch-centrica. Poiché la difficile costruzione identitaria butch è il fulcro dell'intreccio narrativo, la figura della femme rimane in qualche modo in secondo piano ed è avvolta da un'aura quasi magica che sembra stridere con la faticosa, incessante ricerca di sé e del proprio spazio nel mondo che porta avanti la buccia. Stone Butch Blues e il Pozzo della Solitudine sono forse, come dicevo anche in apertura, i due romanzi queer più noti, letti e riletti da generazioni intere di lesbiche e non, e quindi sono vere e proprie riserve di immaginario collettivo. E allora potremmo chiederci con la studiosa queer Claire Hemmings che cosa cambierebbe se queste stesse storie fossero state narrate dalle femme, ovvero privilegiare il punto di vista femme a quello butch costituirebbe un semplice cambio di prospettiva o ci costringerebbe a ripensare certi tratti dei personaggi o addirittura lo svolgimento stesso della trama. Ovviamente sono domande a cui non è possibile rispondere se non forse rivolgendo lo sguardo alle narrazioni femme che esistono per sondare più da vicino cosa ci dicono e cosa soprattutto non ci dicono dell'esperienza femme. In particolare mi soffermerò sulle prime autrici autoidentificate femme che scrivono tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni eh novanta e quindi a partire da un contesto sottoculturale fortemente segnato ancora fortemente segnato dal codice butch femme e che costituiscono il corpus autobiografico femme più noto negli Stati Uniti. Ehm ve le ve le mostro velocemente prima di ehm passare alla seconda parte del mio eh intervento. Allora eh mi eh riferisco in particolare eh a eh Joan Nessol ehm sono in tutte e tre eh autrici ancora in vita. Eh Joan Nessol è fondatrice nel mille mille novecentosettantaquattro è fondatrice dell'archivio eh Lesbian Her Story a New York ed è saggista. Ha scritto alcuni testi eh in particolare e qua ve ne cito soltanto tre ma eh ce ne sono degli altri eh a Restricted Country nel millenovecentottantasette è stata curatrice del volume The Persistent Desire a Fambuç Reader nel millenovecento uscito nel millenovecentonovantadue e qua ho ehm ho citato anche uno dei suoi ultimi testi a Fragile Union New and Collected Writings ehm perché eh in questo in questo ultimo testo sono raccolti soprattutto testi eh più ehm politici diciamo ehm mentre in Restricted Country ehm sono ehm scusate eh Restricted Country del millenovecentottantasette dicevo eh sono raccolti dei dei racconti brevi eh che eh narrano la sua vita eh in questo in questo testo lei parla soprattutto della sua esperienza fam ma anche delle sue origini ehm di ehm eh ebrea eh sua famiglia ebrea si è trasferita negli Stati Uniti quindi eh parla anche della sua della discriminazione che vive anche per questa ragione ehm di questo testo vi segnalo due eh di questi ehm dei testi che andrò a citare soprattutto su cui faccio riferimento soprattutto cioè Butch Fam Relationships eh sexual courage in the fifties del millenovecentottantuno e il breve racconto The Gift of Taking del millenovecentottantasette eh l'altro testo a cui farò eh riferimento eh è The Persistent Desire che appunto come vi dicevo è un testo curato da Joan Nessol ehm è un testo eh molto eh molto lungo che contiene tantissimi eh contributi di tantissime autrici differenti ed è un po' eh è un testo un po' un ehm americana. Di questo testo farò riferimento soprattutto al eh al saggio The Fam Question che è il contributo di Joan Nessol all'interno ehm del volume e che risale al millenovecento novantadue. Ehm la seconda autrice di cui parlerò è Amber Holliboff ehm è stata è tuttora attivista eh per i diritti delle sex workers e eh per la prevenzione eh del light ehm è eh ha scritto eh ha curato solo un un volume che raccoglie suoi scritti eh raccolti nel corso del del tempo eh My Dangerous Desire eh a queer girl dreaming her way home eh che è uscito nel duemila ehm di questo di questo testo ehm citerò soprattutto eh due contributi eh molto importanti ehm il primo è un è un dialogo eh con Cherry Moraga del milione novecentottantuno dal titolo What we are rolling around in bed with sexual sciences in feminism e il secondo è il saggio che dà il nome anche al volume eh My Dangerous Desires appunto eh scritto eh nel duemila ehm per finire eh l'ultima autrice di cui parlerò è Mini Bruce Pratt che abbiamo visto all'inizio nella fotografia insieme a eh Leslie Feinberg infatti è il eh era la compagna di 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 Leslie Feinberg eh è scrittrice, poeta, saggista, docente universitaria, ha scritto tantissimi testi, qua ve ne cito soltanto tre, il primo Crime Against Nature del millenovecentottantanove non è il suo primo testo ma è uno dei primi e in questo testo racconta ehm del suo coming out ehm che avviene eh quando lei è già sposata e ha già dei figli eh con un uomo eh e questo suo coming out la porta a perdere la custodia dei figli eh she di cui vi parlerò dopo del millenovecentonovantacinque e the dirt she ate selected a new poems del duemila e tre non è il suo ultimo testo ma ve lo cito perché è ehm un testo che raccoglie le sue poesie ehm io nel corso del mio intervento parlerò soprattutto di eh she s slash he ehm del millenovecentonovantacinque che è un testo che raccoglie moltissimi eh in realtà è un testo molto agile però ci sono tanti racconti molto molto brevi ehm in cui lei appunto racconta in forma eh romanzata la sua vita e soprattutto la sua relazione eh con Leslie Feinberg. Ehm ok tutti i testi che vi ho eh citato nascono nel contesto eh di movimenti femministi eh della seconda ondata in particolare del femminismo lesbico statunitense eh all'interno del quale si collocano però anche come voce critica e per tutte e tre le autrici che abbiamo visto l'esigenza di scrivere nasce infatti anche dalla volontà di controbattere a quegli assunti lesbo-femministi che nel corso degli anni settanta e ancora negli anni ottanta svalutavano la sessualità butch-femme ritenendola una forma antifemminista di sessualità. Eh si tratta di quegli stessi assunti come abbiamo visto eh che in Stone Butch Blues mettono in crisi ehm le convinzioni di Teresa ma che nella realtà storica sono state messe in dubbio innanzitutto proprio da eh lesbiche auto-identificate fam. Eh John Nessol eh per esempio che si scopre lesbica prima della rinascita del movimento femminista proprio nel contesto della sottocultura working class butch-femme sostiene esplicitamente in un testo del millenovecentottantuno di scrivere per spiegare cito la natura speciale delle relazioni butch-femme alle lesbiche femministe che le considerano una riproduzione di modelli eterosessuali. Ritenuta espressione quindi di un'epoca ormai passata la sottocultura butch-femme era vista come coincidente con un periodo di profondo odio interiorizzato da considerarsi ormai risolto grazie alla rivoluzione femminista e ai movimenti di liberazione omosessuale. La femminilità fam in particolare era vista come un tradimento politico come un scrive Nessol indossare gli abiti del nemico. E tuttavia è sempre Nessol che nei suoi scritti ci spiega come tale visione in realtà prescinda dal modo in cui la femminilità è da lei vissuta ovvero come una scelta libera e come un modo per comunicare il proprio desiderio alle altre donne. Scrive trucco, tacchi alti, gonne, vestiti scollati, persino certi modi di muovere il corpo sono ciò che mi permette di sentirmi sessualmente potente e di comunicare il mio desiderio non agli uomini ma alle butch. Le relazioni butch-femme vanno infatti contestualizzate secondo Nessol nel contesto della sottocultura lesbica e viste come, cito, complesse manifestazioni erotiche e sociali che sviluppano un linguaggio profondamente lesbico fatto di atteggiamenti, abiti, gesti, amore, coraggio e autonomia, riconoscibile nel caso delle butch per la loro apparenza, nel caso delle femme invece per la loro scelta. Un altro tema infatti che emerge da questi scritti, dagli scritti di queste autrici, è proprio l'invisibilità femme. Se la femminilità lesbica è guardata con sospetto dalle lesbo-feministe, nel più largo mondo eterosessuale, le femme non sono visibili come lesbiche a causa del loro della loro estetica. Se non dicono apertamente di non esserlo, le femme sono automaticamente scambiate per donne eterosessuali. Sono sicuramente lesbica per me stessa, ma non in un modo riconoscibile per un mondo eterosessuale, dove viene dato per scontato che una lesbica sia mascolina, scrive Pratt. Sempre Mini Bruce Pratt racconta inoltre la resistenza incontrata nei riguardi del suo desiderio per le forme di maschilità femminile, un atteggiamento che, come ho mostrato, è ben esemplificato dalla protagonista Steven nel Pozzo della Solitudine. Il motivo per cui una donna dovrebbe preferire forme di maschilità che non albergano in corpi biologicamente maschili risulta misterioso, inaccettabile e inconcepibile in una società come la nostra, fortemente plasmata da codici di interpretazione della sessualità binari. Eppure, come vi dicevo prima, questa invisibilità mista in comprensione non evita a Pratt lo stigma del lesbismo. Infatti, dopo il divorzio con il marito, Pratt racconta la perdita della custodia dei figli in seguito al suo coming out. Nonostante la femminilità, scrive, in quanto lesbica dichiarata non risulta comunque abbastanza donna per essere considerata una buona madre. I racconti di Mini Bruce Pratt in She, un libro che vi ho mostrato prima, rappresentano un tentativo, come dice lei stessa, di riconciliare le contraddizioni di sesso e genere da lei vissute nella sua esperienza corporea, così come nel suo attivismo politico. Questo lavoro di riconciliazione si iscrive nella complessità dei percorsi di soggettivazione femminile, che per Nessol rischiano di essere non solo fraintesi ma anche negati quando si guarda alla femminilità con rigetto o sospetto. La triste ironia che si nasconde dietro il giudizio negativo nei confronti delle femme, scrive, è che per molti di noi imparare ad amare il nostro corpo è stato un percorso lungo una vita. L'identità femme emerge infatti da questi scritti come un'esperienza corporea e fortemente radicata nella dimensione erotica e sessuale, capace di espandere il nostro vocabolario emotivo e sessuale. Nessol, Oliboff e Pratt non solo offrono vivide narrazioni delle loro fantasie erotiche, ma dedicano anche ampio spazio alla descrizione del modo in cui il desiderio femme è incarnato e alle sfide che tale incarnazione pone a loro stesse, così come al contesto sociale in cui vivono. Prima fra tutte, l'equazione svalutante e stigmatizzante tra il desiderio di essere penetrate e la passività e l'inattività sessuale. Nel suo dialogo che ho citato prima con Cervi Moraga, What we are rolling around in bed with, datato, come vi dicevo, 1981, Amber Oliboff racconta come per lei essere femme non significhi passività, ma attività. Per Oliboff l'atto di aprirsi alla propria amante implica un'intensa attività emotiva che consiste nel rispondere attivamente al bisogno erotico della buccia. Rendere femme femminilizzare la propria attività sessuale significa per lei dare accoglienza a una specifica domanda d'amore che è misconosciuta dal più largo contesto sociale. Oliboff sostiene di desiderare la propria amante nel modo in cui lei vuole essere, cioè, cito, non tradizionalmente femminile. Perché, e cito ancora, è qui che lei, la butch, ha sofferto il danno maggiore nell'altro mondo. Sento che parte del motivo per cui amo stare con le butch è che sento di riparare quel danno. Anche Nessol, insistendo sul carattere attivo del darsi, sostiene che ci sia in tale attività un piacere che consiste nel celebrare il coraggio dell'indipendenza erotica delle proprie partner, in un contesto sociale che invece ne rimarca continuamente la mancanza e l'inadeguatezza. Tuttavia l'esperienza erotica e sessuale femme non si riduce al piacere di rispondere positivamente, attivamente al desiderio che, l'abbiamo detto, è socialmente oppresso e represso dell'altra. Negli scritti in questione il racconto incarnato del desiderio femme rivela una sua autonomia profondamente radicata in percorsi di riappropriazione di sé e del proprio corpo sessuato. Il contesto delle amanti butch rassicuranti e gentili, passionali e attive, scrive Nessol, è stato un modo per tornare ad accettare ciò che la società ci diceva di disprezzare, il corpo femminile dai fianchi larghi e il culo grosso. Anche Amber Ollibout e Mini Bruce Pratt raccontano l'esperienza sessuale con le butch come il luogo in cui è stato per loro possibile esperire il proprio corpo in un modo che nelle relazioni eterosessuali risultava loro precluso e che la società sembrava essere in grado solo di svalutare e denigrare. Come ha notato Ann Cetcovich nel suo lavoro sugli archivi affettivi, gli scritti femme offrono l'occasione non solo di ripensare l'esistenza di un legame necessario tra penetrazione e pene, tra ricettività e sottomissione, come ho cercato dimostrare, ma anche di fare i conti con una descrizione del piacere sessuale che non prescinde dagli aspetti negativi e traumatici dell'esperienza sessuale. Ispirata dalla svolta antisociale negli studi queer, in particolare dal lavoro di Leo Bersani, Cetcovich ritrova negli scritti femme la possibilità di celebrare l'esperienza del piacere della penetrazione senza negare le sue radici nel dolore e nel trauma. In particolare Cetcovich mostra come nel racconto che vi ho nominato prima del 1987, The Gift of Taking, quindi il dono di prendere, Nestle descriva l'atto di aprirsi alla propria amante e di farsi prendere dalla propria amante come un momento di estrema vulnerabilità in cui si trova a fare i conti con sensazioni anche spiacevoli come la vergogna, l'imbarazzo, la paura o anche la misoginia e l'omofobia interiorizzata. Nestle descrive la ricettività femme come un'esperienza difficile legata al trauma e alla presenza di gerarchie nel sesso anche nel sesso lesbico, che le fornisce però anche la possibilità di una riconciliazione a lungo desiderata con il proprio corpo di donna. L'esperienza con la mia amante scrive alleggerirà il mio corpo, mi permetterà di usarlo e sentirlo, mi aiuterà attraverso le sue richieste e il suo piacere a dimenticare l'odio interiorizzato. Attraverso il suo dono di prendere avrò indietro me stessa, una me che deve vivere in questo corpo e che necessita disperatamente riconciliazione. Anche Mimi Bruce Pratt e Amber Ollibaut insistono sulla dimensione traumatica del sesso in riferimento al proprio desiderio. È stato terrificante, cito, è stato terrificante riconoscere il mio bisogno di essere posseduta, peggio di essere posseduta da una persona che aveva l'aspetto di uomo, ma che io sapevo essere che volevo che fosse biologicamente femmina, scrive Ollibaut. Per Pratt, invece, il sesso coincide con il rischio di essere vista, cito, come una passività vuota, come la neve, una superficie bianca che attende di essere infangata dalle tue mani. Qualcuno mi guarda per vedere se sono stata sporcata dalle tue suole. Altri, e persino il mio inconscio, mi hanno giudicata una puttana. L'esperienza di pericolo può però rivelarsi estremamente appagante. Quando le cure dell'altra permettono di lasciarsi andare al proprio desiderio, diventa possibile, per Pratt, cito, creare attraverso ogni vibrazione del proprio corpo. E per Ollibaut, letteralmente, cito, riscoprire il proprio cuore attraverso la propria figa. Per Nessol, Ollibaut e Pratt, l'identità femme si costruisce, insomma, intorno a una complessa e profonda negoziazione delle proprie fantasie sessuali, in cui lo stigma sociale legato a esse, così come lo stigma legato al lesbismo e alla sessualità femminile, è costantemente messo a tema e rielaborato, in percorsi di riappropriazione di sé e del proprio essere donna, che non sempre collimano con le visioni proposte dal femminismo. Quella che, insomma, se paragonata al vissuto Butch, che a voce in Stone Butch Blues è in modo diverso anche nel Pozzo della Solitudine, sembra essere un'esperienza di genere lineare, pacificata, si rivela nelle parole di queste tre autrici il frutto di una complessa negoziazione intima che si svolge prevalentemente nel terreno minato della sessualità femminile. In conclusione vorrei tornare alla domanda con cui ho aperto la seconda parte del mio intervento, ovvero che cosa cambierebbe se le storie raccontate da Red Cliff Hall o da Leslie Feinberg fossero narrate dal punto di vista di Angela, Mary oppure Teresa? Probabilmente cambierebbe molto, ma non ci è dato saperlo e forse dovremmo limitarci a guardare a questi romanzi come a delle espressioni letterarie capace di dirci cosa significhi abitare il mondo come maschilità femminili ovviamente in epoche diverse, in momenti storici diversi. Leggere Pratt, Olibaut e Nessol però ci permette di fare luce su un'altra dimensione del desiderio lesbico, quella femme, spesso invisibilizzata o non considerata, consentendoci al contempo di riflettere sui complessi e non sempre facili processi di incarnazione della femminilità che hanno luogo oggi come ieri. Vi ringrazio. Bravissima Eva, grazie per questa approfondita appassionante e appassionata analisi delle categorie di maschilità, di femminilità, di attività e di passività, pensate come artifici costruiti e molteplici nei loro sensi e nei loro significati. Grazie anche per questa proposta vertiginosa di decentralizzare il punto di vista anche in seno alle produzioni minoritarie e poi per avere evocato la questione tacitamente della intersezionalità, dimostrando l'importanza della dimensione di classe nell'ambito delle relazioni butch-femme. Per formulare qualche osservazione, qualche, proporre qualche elemento di analisi, qualche interrogazione, sono felice e onorata di lasciare la parola ora a Maya Deleo, che è storica, ha insegnato storia di genere presso l'Università di Genova e attualmente è docente del corso di storia dell'omosessualità all'Università di Torino. È autrice di un libro meraviglioso che consiglio a tutti di leggere, di acquistare subito, che si intitola Queer, storia culturale della comunità LGBT+, edito da Inaudi pochi giorni fa e di vari saggi e articoli di storia LGBT+. Grazie Maya di essere con noi, siamo molto felici e ti lascio la parola. Grazie a voi e anche io ringrazio la Società Italiana delle Storiche e soprattutto ringrazio Charlotte, Silvia e Eva per i loro bellissimi e veramente straordinariamente ricchi interventi e tutti loro e anche Sara per avermi coinvolto in questo panel davvero importante per la storia lesbica e queer. Le vostre ricerche mostrano infatti come siano ricchi di potenzialità ermeneutica per la storiografia lesbica, queer, quegli approcci attenti alla letteratura, alla storia culturale, allo studio delle rappresentazioni, tutti quegli strumenti in grado di utilizzare, tutti quegli approcci in grado di utilizzare gli strumenti, gli approcci teorici e critici che provengono appunto dagli ambiti disciplinari della teoria della letteratura, della ricezione, dei cultural studies. Questo non solo perché gli studi di genere e queer nascono per loro natura, diciamo così, interdisciplinari e transdisciplinari, ma mi sembra che qui emerga proprio dagli interventi che abbiamo ascoltato come sia centrale nei processi di soggettivazione lesbica e queer questo inestricabile rapporto tra testi e corpi, tra narrazioni e desideri, tra linguaggio e soggettività. Grazie a questi tre interventi abbiamo visto proprio la centralità, come sia fondamentale la descrizione delle condizioni di enunciabilità dei desideri, delle soggettività, anche delle corporità queer, come sia fondamentale per ricostruire una mappatura, una storia, un archivio per dirlo con Betovic, la ricognizione delle risorse discorsive, no? A disposizione nei diversi soggetti per le varie soggettività, non solo per dirsi ma prima ancora per fare esperienza di sé, no? Anche del proprio corpo e dei propri desideri. Come scrive Sara nella prefazione al bellissimo libro di Eva Feule Subittig, dall'eloquente titolo, infatti, corpo a corpo con il linguaggio, di nuovo troviamo questa diede, per i soggetti minoritari il linguaggio è ciò che ferisce i corpi elementi, no? Ma allo stesso tempo anche il luogo che le soggettività minoritari possono conquistare, al fine di immaginare un al di là, dall'inferno dell'eterosessualità, dall'eteronormatività, in cui si parli un'altra lingua con altri corpi e con altre menti, no? Da tutti questi interventi, infatti, emergono proprio tutte le contraddizioni che innervano questo al di là, questo campo discorsivo aperto dalla presa di parola lesbica in cui si prova ad articolare appunto desideri queer. Un campo attraversato dagli scritti che avete analizzato in questi interventi, scritti che vanno a comporre quella che un esempio di quella che Deleuze e Gattari hanno chiamato letteratura minore, no? L'hanno individuata proprio come propria dei soggetti minoritari partendo dall'opera di Franz Kafka e dalle tre impossibilità che lo scrittore individuava per gli ebrei di Praga, no? Che come lui si trovavano a scrivere in tedesco e diceva l'impossibilità di non scrivere, l'impossibilità di scrivere in tedesco, l'impossibilità di scrivere in un'altra lingua. Mi è sembrato che l'impossibilità di non scrivere per le soggettività lesbiche e queer deriva proprio dalla loro immersione, come hanno dimostrato tutti gli interventi, dagli intrecci interstestuali, no? Tra scienza e letteratura, da una trama discorsiva che delinea certe tradizioni letterarie, certi topoi romanzeschi, scaturi scenderi e propri canoni autobiografici, come abbiamo visto con con Eva. Poi l'impossibilità di scrivere in tedesco, ovvero la necessità del lavoro di deterritorializzare, riterritorializzare il linguaggio eteronormato, quindi affinché possano aprirsi nuove possibilità espressive per le soggettività queer. Questo è proprio un lavoro di risignificazione che attraversa tutta la storia culturale lesbica e LGBTQ più in generale. In questo senso, appunto, i vostri bellissimi interventi mostrano tutte le diverse strategie, no? Messe in campo per la risignificazione dei discorsi dominanti, quindi della sessuologia, del canone dell'amore romantico, del canone del Bildungsroman, e via dicendo, no? Nelle narrazioni lesbiche e queer. E infine l'impossibilità di scrivere in un'altra lingua, ovvero emerge come l'affrancamento dalle narrazioni dominanti sia un processo continuo, costante, sempre in divenire, no? Per le soggettività lesbiche e queer che non si può dire mai concluso. In questo senso, no? Il backward modernismo che ci hanno proposto eh eh Silvia e Charlotte eh questa complessa negoziazione del femminile eh dei significati del femminile eh di cui ha parlato Eva sono elementi eterogenei di questa dinamica di emancipazione, di affrancamento che ruota attorno, riattualizza, risignifica, smonta e rimonta e riassembla i significati delle opposizioni binarie tra maschile e femminile, passivo, attivo ehm e così via. Eh nei testi appunto che 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 avete che ci avete proposto abbiamo visto ritroviamo queste bicategorizzazioni che però eh ne possiamo anche osservare no? Gli usi subversivi, le riappropriazioni e anche sebbene eh molto contraddittorie e dolorose, no? Eh dolorose anche perché tutto questo processo vediamo che passa attraverso il il corpo, passa attraverso il corpo. Mh nei tre interventi si assiste proprio a questa costruzione anche corporea della soggettività lesbica, no? Eh attraverso la riappropriazione delle rielaborazioni delle categorie del maschile e del femminile, dei desideri etero e omoerotici, dei linguaggi e delle pratiche eh della sessualità. Eh in questo senso la ehm possibile rintracciare questa confluence, no? Che hanno evidenziato Charlotte e Silvia anche con i testi che lo che loro hanno proposto anche con i testi che ha proposto Eva eh l'impatto trasformativo del desiderio queer che sottrae i corpi all'eteronormatività o forse rivela una queerness del corpo eh eh e aprendo appunto spazi possibili spazi di espressione di sé. Eh nel suo saggio sul trauma no? Eh che ricordava eh eh Eva Sveltovich eh citando Jack Alberstam scrive che gli scritti butch fam ma potremmo dire in generale eh lesbici queer eh come quelli che abbiamo visto oggi aprono nuove possibilità per i corpi e i loro significati. Anche questa è un'emancipazione costante sempre in divenire mai conclusa che ha ricadute non solo sulle persone queer. Concludo quindi sottolineando la centralità eh delle questioni sollevate da questi interventi proprio per la storia per la storia lesbica per la storia queer cioè proprio la volevo sottolineare la storicità eh diciamo così dei vostri interventi da storiche storici storico eh i complessi percorsi di costruzione eh dei corpi delle soggettività le articolazioni narrative delle esperienze dei desideri delle relazioni sono dovrebbero essere no al centro eh delle nostre indagini e quindi eh davvero dei contributi dei contributi preziosissimi che spero insomma siano eh recepiti anche dalla dalla storiografia e quindi ringrazio ancora le le relatrici e appunto lascio spazio al dibattito alle domande io vi lancio appunto questa ehm questa suggestione sulla confluenza no? Davvero abbiamo visto come un'ottica transnazionale è necessaria per l'abbiamo visto in tutti gli interventi ma anche in quelli di di questa mattina no? Si è concluso con questa con questa con questa ottica intersezionalità e e ottica transnazionale e veramente come dicevate dicevano giustamente Charlotte e Silvia è frustrante questa confluenza perché vediamo questo ritornare di temi e non sappiamo ehm da dove origina questa confluenza non sappiamo chi ha letto chi eh non sappiamo ancora appunto la ricetta i processi di ricezione per le audience queer sono difficili da ricostruire perché appunto di nuovo le fonti scarseggiano le memorie sono poche quindi bisogna lavorare no? Di immaginazione quindi è molto frustrante ma al tempo stesso estremamente eh stimolante no? Per la ricerca per la ricerca storica io mi fermerei qui anche se ci ci sono altre domande se eh davvero davvero grazie. Allora oltre a invidiare i fortunatissimi allievi di Maya inviterei forse le relatrici a a che non so una a una rapida reazione alle suggestioni di Maya e poi vediamo se se c'è qualche domanda dal pubblico. Chi comincia rapidissimamente? Beh io ringrazio Maya tantissimo è stato un intervento veramente molto bello il tuo e mh e soprattutto per l'importanza che hai sottolineato insomma del eh del dare voce a questi a queste esperienze che che sono poco conosciute no? E l'importanza dell'archivio che è che è un ehm è un po' un tratto che che accomuna queste autrici di cui vi ho parlato l'importanza di di mantenere vivo questo ricordo John Nessol come dicevo no? Ha fondato gli archivi Her Story a New York e e anche i loro testi che hanno questa forma autobiografica o tra l'autobiografico e il romanzato insomma l'autofinzione eh vogliono proprio questo e hanno un almeno su di me hanno avuto un impatto enorme per me è stata una scoperta preziosissima eh proprio anche per eh per queste narrazioni a volte anche contraddittori che non eh che non eh che che fanno emergere anche degli aspetti molto problematici del del rapporto con la sessualità e col proprio corpo tutte e tre non l'ho detto prima mi sono dimenticata eh sono state molto attive nel nel movimento femminista e anche eh sono sono state attiviste del dei movimenti per per i diritti delle persone di colore hanno partecipato molto molto attivamente eh si sono occupate di tantissime questioni eh nei loro scritti tutto questo emerge ma emerge anche eh un aspetto eh estremamente intimo della relazione eh che hanno con il proprio corpo e questo eh rivangare ritornare nella propria adolescenza o o giovane età adulta e nel nell'odio che che proprio provano nei confronti del loro corpo nella vergogna che provano nei confronti dell'attività sessuale della delle relazioni erotiche e di come in qualche modo sono riuscite a ehm a scavare in questo in questo trauma e a eh in questo dolore e a trovare dei modi per affrontarlo e e anche per eh per rilegittimare il loro desiderio queer il loro desiderio fam e quindi ecco ehm rileggerle e riscoprirle secondo me è estremamente importante perché eh ci fa capire proprio l'importanza di di archiviare queste memorie e grazie ancora veramente. Grazie a te una ricerca veramente veramente interessante che che spero insomma continuerai pubblicherai e su cui insomma eh lavorerai ancora perché mh davvero davvero interessante. Charlotte? Se posso sì volevo mh dire qualcosa a proposito delle delle storie che spariscono eh delle storie che mh svaniscono nel nulla perché Eva nel suo bellissimo intervento ha parlato della storia di Mary eh vorrei anch'io tantissimo sapere qualcosa della tua della sua prospettiva e da un certo punto di vista possiamo pensare a alle protagoniste dei romanti che abbiamo discusso noi Judith e Isabel come da un certo punto di vista allineate con Mary sono delle ragazze giovani donne che hanno avuto che vogliono avere un rapporto con una donna e questa cosa le viene negata e quindi vogliono continuare esprimono in modo abbastanza come dire eh reticente con un po' di reticenza questa voglia continua di comunque avere un rapporto intimo eh con un'altra donna ehm bisogna anche pensare a altre storie che spariscono eh nel romanzo di eh di Rosamund Lehman ehm Jennifer ehm che parte che va a Parigi va in Francia non è specificato ma pensiamo a Parigi comunque dove va con chi va eh Geraldine l'altra invertita dove va dove sparisce eh queste sono le storie che vorremmo tanto seguire e ci sono le altre storie eh gli intrecci di vita vissuta e eh romanzata che vediamo anche nel romanzo di di Radcliffe Hall sappiamo che alcuni personaggi si basano su eh personaggi eh veri che Valerie ad esempio forse si base su su Natalie Boney cosa di questo tipo quindi ci sono già tutti questi intrecci transnazionali eh ma le storie molto spesso espaniscono e quindi il nostro compito è difficile cercare di dare spazio eh ehm a possibilità ma di non presumere troppo ehm e quindi sì eh è un è un compito eh molto complesso e difficile ehm ma mi sembra che sia fondamentale cercare di di non eh rimanere intrappolate noi quando guardiamo indietro quando leggemo Tasty quando anche quando guardiamo il momento attuale di rimanere intrappolate eh all'interno di di rigide categorie di di identità di sessualità etichette eccetera di di cercare di lasciare spazio per eh tutte le sfumature ehm forse mi fermo mi fermo qua ah l'altro discorso che volevo sollevare un po' era la censura perché ovviamente il romanzo di eh di Radcliffe Hall è stato censurato nel ventotto pubblicato già subito censurato in Italia è stato pubblicato circolava in traduzione ehm e poi è stato messo sulla sulla lista dei libri probabili forse nel trentaquattro non mi ricordo precisamente ma ovviamente alcune coppie circolavano ancora ehm e non si capisce tanto chi l'ha letto cosa ne hanno pensato sappiamo che Radcliffe Hall eh comunque ha fatto un viaggio in Italia eh che è eh è andata a Bologna cioè sappiamo diverse cose ma non non abbiamo tanti documenti ehm e quindi questo è un portempo di frustrazione ma dobbiamo pensare alla censura come una minaccia costante in quegli anni per chi scriveva ehm di identità desideri non normativi diciamo eh che ovviamente il il processo contro il posto della solitudine ha avuto luogo in Inghilterra nel ventotto ehm il romanzo di Lehman è stato pubblicato nel ventisette ma già c'erano stati c'era stato il processo di Oscar Wilde ad esempio in Gran Bretagna e altri casi eh eh in Italia di censura e quindi molto spesso eh chi scriveva si limitava e quindi bisogna leggere sempre tra le righe per trovare l'inconscio del testo per cercare di capire cosa avrebbero voluto o potuto dire se fosse possibile eh eh questo oppure un altro aspetto che rende questa ricerca così interessante così importante ma anche così difficile. Grazie Silvia. Sì volevo appunto aggiungere qualcosina quanto ci ha detto da Charlotte innanzitutto ringraziare Maya eh appunto per questa per questo feedback eh incredibile grazie di cuore grazie anche a Eva per la quale ho già inserbo una domanda se abbiamo appunto se il tempo ci eh insomma se avremo il tempo ma spero spero di sì ehm riparto proprio dal tema della censura che di fatto è per noi come dire una delle domande che evidentemente ci ha accompagnato e ci accompagna nella in questo percorso di rimedimento di testi che che appunto non sono invece entrati non sono incappati nelle maglie della censura e come diceva Charlotte appunto la stianza tutto sommato è stato pubblicato solo un anno prima eh di di del Pozzo della Solitudine e tuttavia riuscì in qualche modo proprio per una sequestra di dinamiche in qualche modo sottese al testo no a non creare non destare questo stupore eh quella che chiaramente quella quella quel clima insomma sostanzialmente un processo per oscenità che invece l'art default dovette eh superare e che poi di fatto eh in qualche modo diventa anche un film per tante altre scrittrici penso a vita Sarkville West che spesso appunto cita anche no il 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 da una parte dice che dobbiamo sostenere l'art default dall'altro canto non pubblica per esempio il suo diciamo romanzo che in qualche modo rappresentava anch'esso una figura diciamo forte rinvertito che era appunto challenge che di fatto non pubblico e fu pubblicato postumo per dire quindi ci sono una serie di dinamiche sulle quali stiamo lavorando che ci raccontano proprio questa tensione perenne instabile invisibile spesso o appunto visibile in filigrana tra disibilità e indicibilità sia essa narrativa quindi a livello narrativo e poi chiaramente chi narra cosa ma anche una disibilità eh legata proprio a quali eh come raccontare l'identità come raccontare le soggettività e chiaramente come abbiamo visto insomma il il lessico della sessuologia da questo punto di vista forniva una serie di di elementi che però che poi nella nella loro circolazione transnazionale in qualche modo ci parlano anche di questa confluence di cui ehm che insomma ci aiuta un pochino ad interrogare anche no una serie di questa molteplicità di eh di testi e anche chiaramente il concetto di backward e modernismo che per noi appunto sotto pivotale perché se è una fase storica anche devo dire mh come ogni momento storico indubbiamente ma ricchissima no di di tensioni ma ricchissima anche di di spinte se vogliamo eh completamente diverse ehm e che che emergono poi dai testi che ci raccontano appunto un momento estremamente variegato e complesso quindi questo modernismo che spesso appunto Diana Suhami ci dice che non c'è modernismo senza lesbiche è chiaro però allora cosa come abbiamo detto prima nel paper cosa intendiamo cioè quali sono queste categorie come vengono eh volta per volta identificate raccontate o auto raccontate no questo e anche se è molto raramente abbiamo una reazione in prima persona che chiaramente da un punto di vista narrativo in un Bildungsroman eh è chiaro che è peculiare questo è un punto che non abbiamo affrontato nel paper ma normalmente il Bildungsroman in prima persona o quantomeno una certa tradizione maschile no di affermazione identitaria qui invece abbiamo prevalentemente delle terze persone impersonali no che ci raccontano delle dinamiche quasi in punta di piedi sulla soglia del testo e quindi questo anche ci ci racconta molto e proprio da questo punto di vista il discorso della voce narrante mi consente poi di di chiedervi di di farmi anche a quanto diceva Eva proprio sul discorso di ehm che tipo di narrazione avremmo avuto se fosse stata non la Butch ma la Femme no e qui e mi veniva in mente mentre parlavi un romanzo su quello ho avuto modo il piacere di lavorare che appunto trumpet di Jackie Kay eh che racconta in versione diciamo così romanzata finzionale la vita eh di Billy Tipton no il trumpettista jazz che appunto visse tutta la propria eh esistenza come appunto uomo e solo dopo la morte appunto si viene a scoprire che era una donna biologica una narrazione è che Jackie Kay secondo me attraverso il personaggio di Joss Moody in qualche modo va a decomporre proprio eh questo o o quanto meno un tentativo chiaramente ehm però ci in qualche modo pone una 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 narrativa eh plurivocale quindi sentiamo tante voci che poi si compongono in qualche modo attraverso un virtuosismo quasi jazz no quindi con dei pesi diversi con una specie di contrapunto narrativo che secondo me è fantastico in qualche modo ci racconta anche di come questa esigenza sia eh sia viva eh nella dittatura anglosassone in particolare evidentemente Jackie Kay scozzese come sappiamo però appunto come anche il linguaggio della musica metaforicamente da voce spazio a tanti personaggi ognuno dei quali in qualche modo ci racconta l'impatto di un'esistenza che però appunto non ascoltiamo quindi l'unico personaggio che di fatto non ascoltiamo se non attraverso la sua musica è proprio il protagonista non so se è una domanda riflessione in realtà non so però insomma non so se i moderatori vedono delle domande formulate eventualmente da coloro che hanno potuto e voluto essere con noi oppure se ripasso la parola silvia per una domanda eva io per ora non vedo domande esterne possiamo forse continuare intanto il dialogo tra di noi abbiamo ancora qualche minuto silvia volevi reagire con una domanda al testo di al la riflessione era tipo questa sul plurivocalismo come appunto una come già appunto ci ha illustrato evano rispetto ad un'alternanza di voci che raccontano evidentemente in modi molto diversi questo impatto nel testo narrativo appunto l'identità transgender tra l'altro post mortem perché appunto storicamente ability la vera identità di billy titan fu tra virgolette svelata post mortem e quindi la narrativa parte proprio da lì dalla fine per raccontarci una eventuale insomma l'impatto quindi niente volevo condividere insomma questo questo aspetto perché è fondamentale insomma chi narra cosa comunque l'impatto delle voci narranti all'interno dei testi funzionali tanto più quando parliamo di soggettività come ci diceva anche maia no soggettività spesso invisibili spesso silenziose noi abbiamo nel nostro paper abbiamo posto molte volte ma della speak ability no della discibilità judith non riesce mai a dirci non lo capiamo perché la lavoratore in terza persona ce lo fa capire ma lei soprattutto all'inizio pensa ma non articola e questo chiaramente un tema cruciale per cui è molto è molto interessante scusami hai ragione i romanzi di red cliffhall e leslie feinberg non sono assolutamente romanzi a più voci sono molto il narratore anzi la narratrice narratore di leslie feinberg occupa tutto lo spazio completamente tanto che come ho cercato di dimostrare le fam ci sono sono dei personaggi anche di spessore a differenza di red cliffhall ma sono completamente narrati attraverso lo sguardo di jazz tanto che appunto come come dicevo a teresa addirittura sembra onnipresente nel romanzo il romanzo si apre con questa lettera a teresa e teresa è continuamente ricordata e nominata ma in realtà nell'intreccio narrativo compare e scompare nel giro di neanche un capitolo in una quarantina di pagine no e quindi è più cosa ha significato per per jazz la fam che che compare più piuttosto che le queste protagoniste che non hanno non c'è una vera e propria prospettiva eh fama anche se c'è molto di più in realtà eh del pozzo della solitudine in cui i personaggi di Angela e Mary sono proprio abbozzati eh e hanno soprattutto sono eh caratterizzati da pochi tratti ehm anche fisici a differenza di di Steven che è spesso narrata anche attraverso la descrizione fisica e anche nel minimo dettaglio del del muscolo che si vede sulla spalla o della cicatrice o eh mentre 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 le le due hanno i capelli lunghi una biondi e l'altra eh mori gli occhi un azzurri e l'altra marroni e stop e sono appunto una la lesbica la la anzi no l'aristocratica annoiata che si diverte che ha come passatempo nel romanzo proprio lei lo dice Steven è diventato una droga per me contro la noia no? Eh quindi si diverte con la virilità ambigua di Steven per come passatempo l'altra invece la povera anima eh perduta che ha incontrato per per sbaglio Steven e viene in qualche modo portata sulla cattiva strada da Steven ma poi anche riportata sulla giusta strada dell'eterosessualità alla fine quindi sì assolutamente questo manca completamente sulla ehm sulla sulla eh plurivocità diciamo dei dei romanzi e mi viene in mente mi vengono in mente i romanzi di Angaretà che che raccontano eh il lesbismo attraverso eh moltissimi e e sguardi diversi anche all'interno dello stesso eh dello stesso testo come per esempio Sfinge non so se se lo conoscete ve lo consiglio ehm però è così questi questi romanzi assolutamente no dove c'è fam dove c'è una fam probabilmente eh diventa anche più difficile far emergere la sua voce eh spero però che ecco di aver di aver fatto conoscere a voi questi testi che che sono poco conosciuti di queste tre autrici credo che dobbiamo chiudere Sara il tempo è tiranno non posso che rallegrarmi per queste ricerche in corso e eh ringraziare ancora Charlotte, Silvia, Eva e Maya per la le loro analisi e il dialogo che è stato intessuto e grazie a tutti e tutte e tutta asterisco coloro che hanno potuto e voluto essere con noi. Grazie ancora. Buona giornata e a presto. Grazie. Grazie.